La Proloco Sviluppa Agropoli e il Forum Giovanile di Agropoli si uniscono all'iniziativa Riempi il carrello di solidarietà della Croce Rossa italiana, Comitato di Agropoli e Cilento. La settimana dal 13 al 20 dicembre la sede comunale dell'associazione Sita in via Pio X di fronte ufficio centrale poste italiane sarà adibito a punto di raccolta aggiuntivo a quello già esistente della Croce Rossa in viale Lombardia, sempre ad Agropoli. Dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 18 alle ore 20 sarà possibile donare beni alimentari di prima necessità, nello specifico pasta, riso, pomodori, pelati, sughi, legumi secchi o in scatola, latte a lunga conservazione, olio di oliva, oli di semi, tonno, carne in scatola, prodotti per l'infanzia, farina, zucchero, sale, biscotti secchi, succhi di frutta, merendine. Il tutto sarà svolto nel rispetto delle normative vigenti anti-Covid-19. Un piccolo gesto può fare la differenza.